Martedì 5 novembre, grande manifestazione dell'USB sotto il Mise. Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto, quali le ragioni alla base di questa manifestazione? Ci sono tre ragioni alla base della programmazione di sciopero e della manifestazione che faremo sotto il Ministero. La prima ragione è che andremo lì con i dipendenti Ilva e Ilva e N.A.S. a dire no all'immunità penale in favore di Arcelor Mittal o di qualsiasi altro soggetto, sì alla rescissione del contratto che secondo noi il governo dovrebbe fare con Arcelor Mittal riprendendosi la fabbrica, sì alla chiusura dell'aria a caldo e l'accordo di programma per mettere la parola fine su quello che ormai a Taranto è diventato un elemento di rottura non più sanabile. Rizzo, come mai le altre sigle sindacali vengono convocate e voi dell'USB invece così tenuti in disparte? Non lo so, so solo che questo è il governo doveva garantire la democrazia e hanno escluso una sigla che rappresenta fra i lavoratori che stanno con Arcelor e quelli in A.S. circa il 20% della forza lavoro totale. È stata una mancanza di democrazia senza precedenti da parte del nuovo Ministro Patuanelli, tra l'altro abbiamo fatto una richiesta di incontro formale, io spero che ciò non capi di più, perché non voglio pensare che a un certo punto il Ministro dei Cinque Stelle convochi in base alle posizioni dell'organizzazione. Siccome l'USB è contro l'immunità penale mi convoco coloro che erano solo a favore, cioè Finfiamo e Wilm. Quindi voglio sperare che non sia così.